Un incontro inizialmente consensuale si è trasformato in un vero e proprio incubo per un 37enne di Lecce, bloccato in casa per un'intera notte, dopo aver pagato per un incontro sessuale. L'uomo, aggredito e accoltellato, è stato costretto a consegnare ulteriore denaro per poter riavere la libertà. Tre persone sono state accusate di aver perpetrato l'aggressione, due donne di Bari, di 35 e 25 anni, e un uomo di Brindisi, di 32 anni. I fatti risalgono alla notte tra il 29 e il 30 ottobre 2021, in un appartamento nei pressi di Piazza Mazzini a Lecce. Secondo quanto emerso dalle indagini della procura, il 37enne era stato accolto da due donne dopo aver pagato 500 euro per un rapporto sessuale. Tuttavia, quando ha accettato i tascori della notte con loro, le donne hanno chiesto ulteriori 1000 euro. Non avendo il denaro a disposizione, l'uomo è stato trattenuto contro la sua volontà, con minacce esplicite come «dacci soldi, altrimenti non torni a casa». Durante la notte l'aggressione è proseguita e al mattino presto un complice è arrivato nell'appartamento, sottraendo le chiavi dell'auto dell'uomo. Rimasto solo con le donne, il 37enne è stato ferito al sopracciglio e accoltellato alla coscia destra. Spaventato, ha chiesto di contattare la sorella per recuperare 1000 euro, promettendo di non avvisare le forze dell'ordine per evitare ritorzioni. Dopo aver ottenuto il denaro tramite un taxi, l'incubo non era ancora finito. Le donne e il loro complice hanno nuovamente bloccato l'uomo, chiedendo ulteriori soldi per istituire oggetti rubati personali. Durante questa fase un altro uomo non identificato ha minacciato il 37enne, costringendolo a salire sulla sua auto e a recarsi in casa per iterare ulteriori fondi. Una volta tornato a casa l'uomo ha raccontato alla famiglia la terribile esperienza, che ha immediatamente allertato i carabinieri e il servizio di emergenza. Le tre persone accusate sono ora in attesa di processo con l'accusa di sequestro di persone a scopo di estorsione, rapina aggravata e lesioni personali aggravate. L'udienza preliminare è stata fissata per il prossimo 18 novembre.